Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo il Vangelo di Marco, capitolo 12, versetti 35 a 37. In questo brano Gesù dimostra il carattere trascendentale della sua messianità. Perché? Perché secondo Gesù gli scrivi dicono che il Messia è figlio di Davide. Allora Gesù si interroga come gli scrivi possono dire una cosa di genere che il Messia è figlio di Davide, mentre che Davide stesso lo chiama mio signore. Allora se Davide chiama il Messia mio signore non può essere il suo figlio, dice Gesù in questo brano. Gesù non è che nega questo collegamento di Gesù nella stirpe di Davide. Già Matteo 1, 20, l'angelo ha parlato con Giuseppe. Giuseppe viene dalla stirpe di Davide. Ma il problema nasce dalla sette della gente. La gente aspettava un Messia carismatico e politico che potrebbe liberare il popolo dalle mani dei romani. Gesù nel suo modo di fare si vedeva che era potente. Anche addirittura gli zerotti volevano prenderlo per fare un re. Ma Gesù rifiutò questa offerta perché il suo regno non è di qua giù ma di lassù. E dunque Gesù, la gente, ammirava Gesù. Allora sarebbe lui dunque il Messia. Visto che secondo la profezia il Messia verrebbe dalla stirpe di Davide. E questo Gesù Cristo allora è lui il figlio di Davide. Abbiamo i ciechi che lo chiamavano figlio di Davide. Matteo 9, 27, figlio di Davide. L'ingresso di Gesù a Gerusalemme, osanna al figlio di Davide. Lo chiamano figlio di Davide perché vedono quello che fa. Allora potrebbe essere lui proprio il Messia. Allora, lui il Messia della stirpe di Davide. Non può appartenere al sangue di Davide. Perché? Perché Gesù è al di là di ogni gruppo, al di là di ogni popolo, al di là di ogni famiglia. Dunque Gesù, menzionando questa situazione, vorrebbe solo dire ecco, è vero, sono della stirpe di Davide, ma sono al di sopra di ogni popolo e perciò Davide vi chiama Signore. Allora qui potremmo concordarci con San Paolo nella Letra ai Romani, capitolo 1, versetti 3 a 4, che dice che colui che è figlio di Davide è anche figlio di Dio. Questa è la conclusione di San Paolo. Colui che è figlio di Davide è anche figlio di Dio. Ecco, per dirci carissimi, la messianità di Gesù è diversa della messianità che il popolo aspettava. Un messia politico, un messia carismatico, un messia che verrebbe a liberare il popolo dalle mani dei romani. Non è quello messianismo che Gesù apporta. Gesù viene con un messianismo della sofferenza. Il fiore dell'uomo deve soffrire e poi risorgerà per liberare il popolo. Ecco, Gesù porta un'altra concezione del messianismo. Non un messianismo triofante, ma un messianismo sofferente e che porta alla vita. Per dirci carissimi, ecco, quello Gesù che noi crediamo, non lo consideriamo come uno che viene per spiazzare, diciamo, le catene, per distruggere il demonio come noi lo invochiamo. Ma è un Gesù che ama prima l'amore, che chiede di avere un rapporto profondo con lui, che chiede di stabilire un rapporto profondo con lui, accettando la sua croce, vivendo nel suo amore, vivendo secondo le sue leggi. Non quello messianismo che deve intervenire solo nei bisogni. Non è questo messianismo che Gesù vuole, ma lui si chiede proprio di considerarlo figlio di Dio e di conseguenza stabilire un rapporto profondo con lui e da questo rapporto tutto scaturirà. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre.